Agricoltura e biodiversità sono due segmenti sempre più importanti dal punto di vista culturale e sicuramente vanno incrementati soprattutto se si vive sull'isola Dischia. Ne parliamo con Silvia D'Ambra che ci spiega qualcosa in più. Certo, sicuramente l'isola Dischia è un patrimonio di biodiversità per la sua modo di essere, di esistere. Oggi siamo qui per i terrazzamenti ma può essere la biodiversità del mare, la biodiversità umana, vediamo anche i dialetti. Sicuramente dal punto di vista agricolo abbiamo tanto da recuperare e tanto futuro da dare. Sicuramente è un lavoro del futuro non solo per l'accoglienza ma anche per la tutela del territorio quindi va sicuramente incentivato quello che è l'adesione a un istituto tecnico come l'istituto agrario che non è un istituto di ripiego ma è il lavoro che Ischia potrà dare sempre perché ha terreni, ha terrazzamenti, ha accoglienza, ha clima, ha biodiversità e ha ecosistemi. Di conseguenza pochi posti forse al mondo hanno tutte queste peculiarità. Sta a noi avere la capacità di riconoscerle e valorizzarle. Come Slow Food Disch e Procida stiamo facendo questo lavoro sull'agricoltura come formazione. riprenderemo con profumo di terra quest'inverno con un'attenzione all'orticoltura ecologica e soprattutto alla difesa integrata quindi non solo chimica o la concimazione chimica ma quello che Ischia già fa naturalmente. Dobbiamo solo mettere in ordine i tasselli. I prossimi appuntamenti ci sono, ci sarà una scoperta, un approfondimento sul formaggio a novembre però ce ne chiedete di più prossimamente.